Ammontano a 38 milioni di euro le risorse assegnate dal MISE alla Sicilia per la realizzazione della banda ultralarga nelle scuole di ogni ordine e grado. I lavori avranno inizio nel 2021 e andranno avanti fino al 2023 per coprire 1.150 plessi delle scuole medie e superiori e 2.305 delle scuole primarie e dell'infanzia. Questo permetterà a 3.455 istituti scolastici siciliani di poter usufruire della connettività gratuita in banda ultralarga, oltre al servizio di Customer Relationship Management, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica per la durata di 5 anni dall'attivazione del servizio. Si tratta di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, previsto dalla Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga e varato dal COBUL, il Comitato Banda Ultralarga, che nello scorso mese di maggio ha elaborato un piano di contributi alla connettività in favore di famiglie, piccole e medie imprese e scuole, alla luce dell'importante valenza sociale ed economica che ha assunto la tecnologia durante l'emergenza Covid-19. Proseguono pertanto le iniziative per la trasformazione digitale della Sicilia ed il rafforzamento delle infrastrutture e le comunicazioni che ci pongono quale prima regione italiana per il sistema digitale, con l'88% della spesa europea impegnata, hanno riferito il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore al bilancio Gaetano Armao. Il settore della scuola va considerato in tal senso prioritario e in linea con gli impegni del governo Musumeci.